Ciao, conosci le parole che cosa, chi, come, quando, dove, perché, quale e quanto? Scopriamo queste parole con una storia. In un pomeriggio autunnale, in una bella casa di città, squilla un telefono. Sara va a rispondere. Vado a rispondere, dice. Corre e risponde. Pronto? Chi parla? Al telefono è la sua amica Carla. Pronto, Sara? Sono Carla. Come stai? Ciao, Carla. Sto bene, grazie. E tu? Che fai? Carla dice. Anch'io sto bene. Al momento studio. Ti va di uscire più tardi? Sì, mi va, dice Sara. Dove vuoi andare? Voglio andare in una pizzeria vicino al mare. E poi voglio andare al mare. Sara è stupita. Perché vuoi andare al mare? C'è freddo oggi. Perché nella spiaggia c'è un tesoro. Le ragazze decidono l'ora e il luogo dell'incontro. Quando ci incontriamo? Ci incontriamo alle sette meno dieci. Dove ci incontriamo? Ci incontriamo davanti alla pizzeria Pizza per te. Sara arriva per prima e aspetta Carla. Quando Carla arriva, dice Scusa, sono in ritardo. Da quanto aspetti? Aspetto da dieci minuti, dice Sara. Da dove arrivi? Carla risponde, dalla biblioteca. Di solito studio lì. Le due ragazze vanno in pizzeria. E chiedono. Quanto costano due pizze al taglio? Dipende, dice il pizzaiolo. Quali condimenti volete nella pizza? Io voglio una pizzetta con le olive. Io voglio una pizzetta con verdure grigliate. Il pizzaiolo dice, bene, insieme costano otto euro. Quando le ragazze escono dalla pizzeria. Vanno lì vicino, trovano una panchina e si siedono. Carla tira fuori una lettera dalla tasca. Di chi è quella lettera? Chiede Sara. E di un mio antenato, dice Carla. Da quanto tempo era a casa tua? Non lo so. Da tanto tempo. Sara chiede. Cosa c'è scritto? Di cosa parla? Carla sussurra. Parla del tesoro nella spiaggia. C'è scritto dov'è il tesoro? Beh, c'è scritto da dove dobbiamo partire. Che direzione dobbiamo prendere? E per quanto tempo dobbiamo camminare? Sai di che colore è il tesoro? È dorato. Le ragazze esultano. Saremo ricche! Mangiano e poi corrono in spiaggia. Allora, da dove partiamo? Chiede Sara. Carla dà uno sguardo alla lettera. e legge. Per trovare il tesoro bisogna andare alla cabina numero 10. Ma non ci sono cabine nella spiaggia. Le ragazze sono deluse. Oh no! E ora che facciamo? A chi chiediamo informazioni? Guarda, dice Sara, c'è un uomo sulla riva. Sara va vicino all'uomo sulla riva e chiede. Mi scusi, signore, cerco la cabina numero 10. Dove devo andare? L'uomo dice, non ci sono cabine qui. Ma un tempo c'erano le cabine. C'era anche la cabina numero 10. Era lì. Grazie, signore. Arrivederci, dice Sara. Le ragazze seguono le indicazioni dell'uomo. Allora, in che direzione dobbiamo andare? La lettera dice, bisogna andare verso sud. E fare cento passi. Le ragazze fanno cento passi verso sud. Poi scavano nella sabbia. Per quanto dobbiamo scavare? Non lo so, risponde Carla. Nella sabbia le ragazze trovano un forziere. Ma è chiuso. Carla chiede. Con cosa apriamo il forziere? Possiamo provare con questo, dice Sara. e toglie un fermaglio dai capelli. Le ragazze riescono ad aprire il forziere. Evviva! Aprono il forziere. Ma dentro c'è solo un foglio. Nel foglio c'è scritto. Congratulazioni! Hai aperto il forziere. Sono nato nel milleottocento settanta. Scrivo questa lettera nel mille novecentocinquanta. che anno è? Com'è la spiaggia ora? Dove sono le cabine e gli ombrelloni? Ci sono ancora? Quante cose sono cambiate? Ah, quasi dimenticavo! per vedere il tesoro. Bisogna guardare verso ovest. Le ragazze leggono la lettera e poi guardano verso ovest. Sul mare c'è il tramonto. dipinge il cielo e le onde del mare. Carla, non hai detto che il tesoro è dorato? Sì, dice Carla, hai ragione. Ho detto così. E sembra proprio un vero tesoro. La storia è finita. Ti è piaciuta? Scrivi un commento. Lascia un mi piace e iscriviti al canale. A presto! Ciao!